La consegna, la distribuzione consegna, e poi farci dire, ad esempio, quanti fatti sono stati consegnati all'Osegnano, a metà, a riprofaccia, a molino, a punto, se questa sta la via, perché, no, ma nemmeno la via, perché se te la metti nella via, e dici, io buono, ma nella mia via c'è qualcuno, ma... Perché? No, no, invece è un'informazione in cui si dice, nella nostra fazione che questa è la via, funziona, parli solo di frazioni, però, eh, se individui, oh, voglio dire, non c'è mia niente di... E si spiega nel volantino per le famiglie in difficoltà. Allora, le famiglie in difficoltà sono su tutto il Comune, e si dice, non sono la... il Comune, attraverso le associazioni, su cosa appoggiate per l'Osegnano, e a noi ci devono... Poi decideremo noi, decideremo noi, se pubblicarlo o meno, intanto il Comune ci deve fornire i nominativi responsabili che fanno le Osegne, con cui eventualmente prenderemo contatti anche per capire un attimino che noi facciamo, no? E secondo, e secondo ci forniscano a noi, che valuteremo poi domani se pubblicarlo o meno, forse lo decideremo noi, però, che ci vengano forniti il numero delle famiglie a cui vanno in città.